world greeting il saluto mondiale anti corona virus ed ecco per voi victor quadrelli no 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 allora in questo periodo critico ecco io lancio il nuovo saluto eccolo qua con la manina del salutatore potete acquistare le manine e ci possiamo salutare adesso ecco qui il saluto mondiale eccolo qui saluto mondiale con le manine anti corona virus salutiamo tutti quanti ciao da roma il saluto mondiale ciao